Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove adesso ci sono 7 km di coda per un incidente risolto al km 276 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiorentino in direzione Roma. In alternativa si può uscire a Barberino, seguire per la strada provinciale 8 e rientrare a Calenzano. Rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPILI, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra la deramazione Luca-Viareggio della 11 e Pisa Nord in direzione Pisa con chiusura degli svincoli di Viareggio Sud e Bicchio. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Grazie, buon viaggio!